La US Navy, la marina militare degli Stati Uniti, è entrata ufficialmente nel futuro. È infatti entrato in servizio il primo cannone laser della flotta Stelle Strisce, avveneristica arma che nel giro di qualche anno potrebbe cambiare radicalmente le regole della guerra. Il cannone utilizza sei laser che concentrano tutta la loro energia in un singolo punto, la potenza complessiva dell'arma è in grado di incenerire piccoli droni e piccole imbarcazioni, ma anche di accecare sistemi di puntamento dei bombardieri e delle navi nemiche. Uno dei vantaggi di quest'arma è che non ha bisogno di munizioni e può essere alimentata dai generatori elettrici. Ogni colpo costa meno di un dollaro in corrente elettrica, diversi ordini di grandezza e meno rispetto ai costosissimi proiettili convenzionali.